la chiave di volta per Guido. Ecco, ci presenti un po' il tuo personaggio, ci racconti la genesi che io conosco ed è gustosissima. Buongiorno a tutti, grazie, in realtà l'ha presentato già benissimo Giussi direi. È un giardiniere che ha però un passato diverso, abita in una valle alpina piemontese dove sono rimasti a vivere in quattro gatti e dove lui è tornato dopo invece una vita passata altrove perché pur essendo originario di questa piccolissima valle nelle montagne, diciamo nelle Alpi piemontesi, in realtà per un dono naturale che è quello di avere un olfatto molto sviluppato e devo dire la verità Giussi non l'avevo collegato per niente nella mia stupidità al fiuto dell'investigatore, quando mi sono accorta ho detto ma che banalità per due anni non ci avevo pensato, al fiuto diciamo. Per questo olfatto molto sviluppato Guido è diventato un naso che ha questo mestiere meraviglioso che fanno in pochissimi privilegiati sul pianeta per le aziende profumiere. Lui quindi è finito prima in Provenza, poi a Parigi da questa piccola valle piemontese, quindi strappato a quello che sarebbe stato il suo normale destino perché insomma è una piccola valle con delle fabbriche tessili ma comunque quindi ha una vita che sarebbe stata una vita piccola diciamo in un posto piccolo e invece lui è finito nella Ville Lumière dove è diventato un naso famoso e noi però lo vediamo alla fine di tutto questo percorso, questo è solo un flashback, il nostro Guido è tornato nella sua valle per delle vicende che si intuiscono cupe e diciamo non allegre ecco, è tornato nella sua valle e si è messo a fare il giardiniere per campare perché ha lasciato tutto quello che aveva quindi la sua bella vita, questo mestiere così, questa professione così particolare anche affascinante ed è ritornato a vivere nella casa dei suoi genitori. Ecco, un primo fil rouge che lega i tuoi due romanzi alla figura anche di Guido Boggio Martinet sono questi traumi celati nel passato che riguardano le vittime ma riguardano anche il passato di Guido ecco e che in qualche maniera gettano come un ricatto su quello che può essere il loro presente vero? Ecco, questo è il passato però gioca un ruolo molto importante anche nell'ambientazione perché la valle Cervo, una valle come dire che sembra proprio quasi nascosta e dove gli abitanti sono particolarmente gelosi delle loro tradizioni, della loro lingua anche e dopo vedremo che c'è chi si scontra con questa chiusura anche lei sembra proprio nascosta nelle pieghe del tempo anche se diciamo lo stesso borgo dove Guido abita alla cascina dei suoi un tempo era lietato da ville Rococò, cito, fontane, splendidi giardini affacciati sul torrente e perfino un finto castello gotico ora cento anni dopo perché è stato fondato da un omonimo di Guido senatore del Regno d'Italia oggi dopo cento anni vive un consulto presente fatto di merli delle torri smangiate dalla pioggia cito sempre mulattiere invase dall'erba eppure Guido là trova una risonanza affettiva e sensoriale che nemmeno a Parigi lui aveva avvertito giustamente parli del passato perché credo che questa risonanza affettiva sia una risonanza affettiva diciamo che ha a che vedere con la malinconia come sentimento principale non lo so magari la malinconia è depressiva per qualcuno secondo me invece la malinconia nei posti anche nei luoghi insomma addirittura turisticamente è intrigante perché è così è questo sentimento molto intermedio in fondo che non è né bianco né nero non è puramente depressione, tristezza è troppo alto, vi dà noia la mia vociaccia perché io mi sento insomma la malinconia secondo me è un sentimento molto interessante da in qualche modo da indagare e la risonanza affettiva tra Guido, i luoghi che abita e le vicende delle vittime perché un giallo deve avere delle vittime, deve avere delle indagini quindi anche delle donne poi perché sono delle donne vittime generalmente hanno un po' in comune questa cifra della malinconia la malinconia dei posti è una malinconia facile tu dicevi il castello gotico questi sono posti reali la Valle Cervo esiste ed è proprio un posto così intriso di una malinconia che però è bella cioè che che dà fascino ai luoghi anche perché noi ormai siamo abituati a questi luoghi molto patinati plastificati soprattutto per il turismo anche montano uno si immagina la baita di montagna con questi gerani rossi a palla e questa è un po' l'idea della montagna e invece lì per esempio è una montagna come dice Giusy Fanet una montagna dove c'è stato un passato più ricco e adesso un po' decaduto ma che non corrisponde allo stereotipo insomma delle caprette di Heidi quindi è anche una risonanza in questo senso Guido non ha solo questa affinità sensoriale e affettiva con la natura questa empatia lui parla con le piante ingaggia quasi delle lotte furibonde a volte come fossero esseri umani Guido ha anche un'affinità con alcuni esseri speciali uno di questi è un bambino che noi potremmo dire che rientra in una sindrome da spettro autistico Giovannino che non parla con nessuno neanche con la nonna ma che con Guido parla comunica addirittura lo segue in una piccola anche gita come dire fuori dalla sua e questo mi ha fatto pensare Linda non ridare troppo uno dei miei romanzi di formazione è la serie di Mary Poppins e secondo me Pamela Travers ha avuto un'intuizione incredibile nell'individuare il personaggio di Mary Poppins e anche dei bambini che gli sono affidati nella più tenera età ovvero che tutti noi prima di essere educati prima di ricevere un'istruzione siamo in grado di percepire il linguaggio degli elementi naturali il vento la pioggia e anche il linguaggio degli animali e questo secondo me Guido lo fa sia nei confronti delle piante ma anche nei confronti di Giovannino e si intendono perché hanno entrambi questa purezza questa ingenuità forse di fondo sì sì penso che insomma come dire a volte le persone che leggono leggono più di quello che uno ha pensato di metterci però sono grata nel senso che è più profondo e più bello probabilmente di come io l'avevo pensato diciamo che sì l'idea cioè questo personaggio ha vissuto una vita appunto che non era quella a cui era destinato però è stata una vita anche di lussi di agi in una città meravigliosa come Parigi e torna però in questa piccola valle dove invece ci sono quattro gatti un po' decadente dove non c'è gran che da fare e probabilmente e banalmente gli aggiungerò anche per depurarsi di questi successi esteriori che alla fine di una vita anche perché lui è quasi un uomo di mezza età insomma è un 40enne 45enne che si è reso conto che non hai visto Sogna è un giovane uomo è un uomo molto giovane di 40-45 anni e insomma chiaramente si intuisce che lui ha voluto anche a un certo punto lasciarsi alle spalle l'aspetto anche superficiale di questo successo di questa vita in cui l'esteriorità poi per antonomasia faceva profumi quanto di più tra virgolette meravigliosamente inutile insomma ed è tornato evidentemente per un desiderio di contatto con qualcosa di più autentico e questo qualcosa di più autentico lo trova lo trova nelle piante con le quali appunto litiga perché è un giardiniere compulsivo però lo trova anche nei bambini e in questo caso lo trova in un bambino che ha un modo di comunicare altro ecco non si deve pensare che i tuoi romanzi accanto a questa nota così profonda psicologica non abbinino una tensione e anche la capacità di creare delle atmosfere estremamente da paura allora non spoiloro niente sul secondo faccio solo un accenno al primo in cui Guido si trova ovviamente a tarda sera insomma a perlustrare una villa abbandonata una villa della sua adolescenza in certo modo e io vi assicuro che leggo il crime da quando avevo 8 anni ma mi sono proprio accorta di guardarmi attorno e di ascoltare i rumori eccetera perché soprattutto col buio è un'atmosfera molto molto potente meno male è vero meno male pensa che noia c'era solo il versante malinconico del resto triste ma sai io sono un amante di Proust per cui ah vabbè non fai testo non faccio testo e qui non mi fai però buona pubblicità perché se dici così allora questo questo no che invece questo non lo leggiamo in realtà al centro del romanzo Guido forma una singolare coppia investigativa col commissario l'inquirente ufficiale che è esattamente forse all'opposto di Guido siciliano scopriamo però solo nel secondo romanzo il suo nome e la sua città di provenienza ed è proprio come posso dire il classico esempio di una persona che sente nostalgia del sole del mare e si trova catapultato nel freddo nella nebbia e oltretutto circondato da persone che parlano una lingua che gli è quasi sempre strana infatti il rapporto con Guido innanzitutto nasce in un'atmosfera di sospetto nel primo romanzo perché quasi quasi lo crede il colpevole dell'omicidio e poi comunque di insofferenza perché non capisce come faccia ad amare quei posti non capisce che lingua parla i piatti che gli piace e credo che tu abbia voluto introdurre col commissario una nota un po' leggera un po' sorridente sì certo beh appunto perché se no c'era da spararsi no diciamo che poi la cosa divertente allora questa valle esiste davvero e il commissario siciliano sarebbe diciamo chiamato un foresto in questa valle foresto è tutto quello che è straneo ma la cosa divertente è che in questa valle che esiste realmente si è foresti anche se ci si trasferisce lì da bambini e si vive lì 60 anni si continua a essere dei foresti io avevo una proprio zia definita che avevo sempre saputo diciamo che con sconcerto lì localmente perché la mia famiglia viene da lì con sconcerto veniva definita dice l'ha preso una moglie meridionale no cosa di cui si parlava anche con velata e poi ho scoperto era di Bologna sono contenta ecco questo per dire diciamo il tipo di mentalità aperta no incline alla società piacevolezza quindi il povero commissario siciliano trasferito lì d'ufficio che certamente non ha scelto di andare lì intanto ha proprio un problema è un meteoropatico e quindi da quando ha scoperto che Biella è la seconda città più piovosa d'Italia che è vero a livello proprio di precipitazioni annue non trova pace perché diceva tra tutti i posti voglio dire del bel paese no sono venuto qui che piove tutti i giorni tutte le stagioni tutti i giorni quindi non trova pace e naturalmente questo senso è un contraltare divertente insomma spero divertente poi uno ci prova a quando un'altra indagine? eh io spero presto lo chiedo egoisticamente grazie sei stata troppo generosa devo dire che io ho l'abitudine da sempre di andare in libreria e di scegliermi i libri adesso i librai quasi non li consigliano più ma una volta quando tentavano di darmi dei consigli io proprio reagivo con un moto di insufferenza e il suo primo le colpe degli altri me lo sono proprio hanno usato io ed è stata una sorpresa veramente e come li scegli dalla copertina? leggi il ma sai che se non dovessi dire se non avessi timore di dire una cosa troppo fantasiosa direi che mi chiamano i libri mi chiamano io a proposito di meridionali io avevo una nonna abruzzese e anche un po' come dire esoterica probabilmente quindi hai questo pancian questo pancian e dopo il secondo è stata una sicurezza una scelta una scelta mirata quindi cosa ci puoi raccontare del futuro di Guido? allora che sono in lettura alla casa editrice sia il terzo che il quarto perché si sono bizzarramente accavallati perché questi editor sono crudeli cattivissimi quindi sul terzo ha detto mi piace moltissimo riscrivi tutta la seconda metà e Sonia vedo che annuisce sa di cosa parliamo nella sua cattiveria allora io ho detto sì vabbè riscrivo la seconda metà ma non è facilissimo mi piace tantissimo ma rifai tutto da capo insomma anche in cucina non è semplice e quindi per tenermi su diciamo mentre obbedivo perché come Garibaldi obbedivo all'ordine dell'editor per tenermi su scrivevo il seguito e quindi alla fine sono finiti tutti e due insieme glielo ho dati adesso adesso vediamo guai a lei si dice di rifare qualcosa eh vabbè questo non è dato sapere che cosa capiterà proprio così appena un cenno di nuovo a Guido allora capiterà che diciamo c'è una sorta di storia d'amore che è estremamente così no in secondo piano molto onirica molto da lontano e la cosa che è stata molto divertente insomma per me proprio personalmente è stato che delle persone che mi hanno cercato lettori che mi hanno trovato su Facebook mi hanno scritto eccetera ho avuto un 50 e 50 di persone che mi dicevano basta deve succedere qualcosa cioè deve questa Marta deve venire in qualche modo ci deve essere anche una conoscenza biblica non ne possiamo più e un 50% di lettori che mi dicevano mi raccomando lascia tutto così che non debba mai che non si incontri mai e allora alla fine ho deciso che è meglio che si incontri perché a un certo punto ci volevamo anche perché Marta gli aveva fatto il dispetto di andare a Parigi insomma quindi proprio proprio là come dire no ecco e poi così insomma e naturalmente nuovi delitti feratissimi delitti e insomma vittime vittime a profusione bene questa è la dimensione della paura che a noi piace vivere grazie Giuseppe grazie infine grazie molto grazie a tutti grazie a tutti